Musica Il ricordo dei partecipanti Vuoi dire qualcosa? Dopo Buon appetito Buon appetito anche a te Signor Nicolo qui Solo 4.000 euro E per il ricordo Dobbiamo immortalare Luigi buon appetito Grazie Buon appetito a tutti Buon appetito e non vi distraete Buon appetito Buon appetito Ma che cosa sarà? Buon appetito Buon appetito Grazie Buon appetito 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 e dobbiamo aumentare questo nostro rapporto dobbiamo ancora di più rimborsare questo rapporto che abbiamo perché è giusto, se dire vuoi non si porta vuoi non si porta vuoi l'Azerminale sperimenta fra tante di quelle partite parla al nord e auguriamo che il prossimo camminato di Serie B e noi già ci sentiamo in Serie B dovremo fare tante e tante di quelle trasferte in questa zona quindi siete voi il nostro rapporto di più auguri allora è un bellissimo rapporto che ho con loro perché ogni domenica ci incontriamo sempre sempre di tutti i cambi del nord per cui è un piacere avere a che fare con delle persone grazie 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 sempre al nord, sempre più spesso, è più forte bisogna anche imbarare la seconda lingua l'ingresso lo fa l'ingresso è esattamente bello la cagliari intanto questa giornata è dedicata al consorzamento della festa dei ragazzi di Milano credo che sia opportuno onorarli perché veramente sono un gruppo che seguono la Sarnitana in tutto il nord Italia, ci fanno onore e ci rappresentano con la loro voce in tutta Italia direi di dargli anche un applauso per manifestargli il nostro applauso Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti